Ciao a tutti amici, benvenuti in questo nuovo video, io sono Anna e oggi siamo su un nuovo video di Geogaster, finalmente dopo un po' di settimane. Iiii che bello! Come sentite sottofondo ovviamente c'è Gianni, come sempre. E niente questo, oggi faremo come modalità, non so come si chiama, dimala tu come si chiama. Al-Ada-Hamed. Non ricordo come si chiama. Si chiama Indovina la Nazione! Faremo Indovina la Nazione! Ricordatevi sempre di seguirmi su Instagram, seguire Gianni su Instagram e su YouTube, e di mettere like, commentare, condividere, iscrivetevi se non avete ancora fatto. E niente, spero che questo video vi possa piacere e buona visione! Ok, eccoci qui. Siamo sulla pagina iniziale. Ok, che multigiocatore, ma io sono incoglionita. Allora, ecco, questo, Strix, voglio fare io. Si. Ok. Allora, cosa facciamo? Paesi, strisce, Stati Uniti... No, facciamo paesi, strisce. Oddio, che luce! Mi sono azzecata. Allora, ma qui, quindi, cosa è che devo capire la nazione? O l'uomo? Devi capire dove siamo. La nazione? Siamo la nazione. Ah, ok. Allora, vediamo un po'. Siamo in Europa. Aspetta, si vede qualcosa lì. Non si vede un cazzo, vai avanti. C'è un 31. Ma non so... Eh, cosa capisci? Siamo in Europa, paesi dell'est. No, devi guardare lì. Guarda in alto, c'è il ristorante. In alto? No, c'è il ristorante, lo vedi il ristorante? La pizza. No, aspetta, l'ho visto, dov'è? Zoom al ristorante. No, aspetta, aspetta un attimo. Aspetta un attimo. Me lo sono sognata. Ok. Vietnam. 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 Sinistra, Dio. Fatiste, Dio, c'è un buccio o qualcosa? Francese, Francia. C'è scritto sans gluten e sans sucre raffin. C'è sta di cazzo, devi guardare a sinistra. Questo. Guarda, 04, 94, 03, 02, 02. Cosa capisci? È francese. È Francia. No, vedi, porco Dio. No, vedi. Non è Francia. Tu non credi a me. Ho visto un cartello, l'ho perso, l'hai finito? Perché perdo la roba? No, no, no. Casa rossa. Casa rossa. Svezia, Svezia, Svezia. Casa rossa. Svezia. Sweden, Sweden. Oh, è sempre così. O è Norvegia o Svezia in questi casi. E sbaglio sempre. Questa? Eh, Norvegia. No, Svezia. No, Svezia. Stavolta. Dai, adesso mettiamo. Non lo vedi a Finlandia. Svezia. Allora. Guida a sinistra. Guida a Africa. O Australia. Vedo assolutamente. Questo style è un po' storto. Vabbè. Eh, un po' come te. Barnish Garden. Sono neri. Africa. Vediamo se è Sud Africa. Ok. Eh. Ok, andiamo a fare il record. Siamo a uno. Ed è un uggio. Irlanda. Ma c'è un cane qui? Ok. Che? Le mule vacche. Le vacche. Vucca un'iocavo. Vucca. Questo è Gianni? Un cavallo. Oddio. Ma perché la casa è lì? Poi qui siamo in una zona di campagna. Non c'è niente. Avranno tutte quelle case. Tu non trovi niente. Perché tu non sai trovare niente. Porco Dio. Ma cosa? Ok. Dai. Dimmi dove siamo. Inghilterra. Vai. Inghilterra. Va bene. Inghilterra. Secondo me siamo in inghilterra. Secondo me siamo tipo in Irlanda. Inghilterra. E ora cosa c'hai da dire? Adesso inizio io. Sei inizio. Hai ragione. Allora, secondo me siamo in Irlanda o in Norvegia. Questa qua non è Irlanda o Norvegia. Testa di cazzo. Questa qua è Finlandia. La metti in Finlandia. Ma fammi pensare, fammi guardare, fammi esplorare, fammi capire. No, Volvo. Svezia. Ci sono le Volvo. È Svezia. No. Potrebbe essere Europa, eh? È Europa. Europa è Europa. Di Germania, magari. No? Zembre. Allora, siamo dalla parte dell'est. Quindi Europa Nord-Est. Europa Nord-Est. Può entrare in gioco la Polonia. La Cecchia. Lì, la Cecchia. Repubblica Ceca. Hanno un accento sulla O. Polonia. Non lo so. Devi guardare. Guarda la Polonia di Okanese. C'è un accento sulla O. Sì, ce l'hanno. Aspio. Perro. Con Inghilterra o Olanda. NL, Olanda. Quanto ne so. Dov'è l'Olanda? Aspetta. NL, Olanda. Bruxelles. Ma sta roba è già uscita. Aspetta, c'è un... Ah, Repubblica Ceca. È quella, va. Questo è già uscito? No, non è già uscito. Ma è una cosa sì. Ma dove siamo? Scusa. Guarda qua, parco Dio, ti muovi di meno? Ti puoi muovere di meno? Questa, secondo me, è puzza o di Mongolia, o di Australia, o Sudafi. Zooma un po' per terra. Zooma per terra, parco Dio. Questa erba è erba. Quel terriccio lì è fango. Gianni! Mongolia. Mongolia. Ma che odio quando fa così. Che si bagga tutto. Ah no, mi fa prendere avanti. Non puoi andare oltre. Mi stava per cadere la corsa. Questa? Ah! Ok. Un'aciclabile, ecco. Come vedi c'è un'aciclabile. Sì. Quindi siamo in paesi del nord. A me può essere Svizzera, te lo giuro. O è Svizzera o è Germania? Rugge. E se è soltanto quello. Ah, spero. No, però può essere. Ma allora. Però non può essere. Prendi in giro. C'è questa cellula, lo vedi? Sì, sì, lo vedo. Genus Trus. E che cazzo c'è? È un simbolo di che cosa? Una montagna. Una montagna, sembra. Non so cosa. Porco Dio. Vabbè, torna indietro. Vai di là, di sinistra, Dioca. Ecco, vai, continua ad andare lì. Come? Ucraina. Hai casco, quindi. Secondo me è tipo... Ma che cazzo c'è? Può essere Barcellona. La lista di Schindler. Caglie. Caglie o Calle? Calle. Calle. Spagna. Spagna. Hai scritto? Zaragoza. È un posto Zaragoza. Sarà una città, non so. È Spagna. Dove c'è scritto? Spagna! Può essere Sardegna. Ma che Sardegna? Sembra italiano? Ti sembra italiano? A parto telemarket. E guarda, poi se è italiano. Parano è italiano, è greco. Ecco. Non è detto che sia greco, però. Infatti non è greco questo. Non è greco. Croazia. Secondo me no. La Chigia. La Chigia è croato. Ma come è possibile? Sì, guarda. Peru? No, spieghi che è Peru. No, non è vero. Com'è che si chiama? Aspetta, Turchia, no? Eh, Turchia. No. Tacchino. No. Tunisia? No. Iran. Iran. Aiuto. Iran! Dov'è Iran? No, non è Iran. No, basta. Mi sono stufato. Parlano in inglese. Adesso vediamo il senso di guida. Metti Filippine. Metti Filippine. Ma ti giuro che sei Cina, mi dico cavolo. Vabbè. Singapore. Madonna, che casa verde. Messico. Ma no, ma perché devi fare a caso? Cioè. Vai in Messia. Perché? Che è? Cosa c'è lì? Non si legge anche là. Secondo me questa è Terlandia. Terlandia. Esistì. Non è Terlandia. Scommiti. Scommettiamo che siamo in Albania. Ah, certo, sì, sì. Sì, sì, siamo in Albania. Saremo in Turchia. E' Tunisia. Ecco, Turchia. Ma che cazzo dici? E' Tunisia. E' diversa, idiota. E' Tunisia. Non è come la Tunisia. Davvero, Tunisia. Non siamo in Italia. Parigi. Cioè, Parigi. Francia. Aspetta. Ma sì, metti Francia. Quale Macron, porco Dio? Cartello a destra. Zoom a cartello a destra. Non quello, idiota. Non quello. Aspetta. Cosa leggi da lì? No, no. C'è il cartello giallo. Vai sul cartello giallo. Eh, vado. Aspetta. Sclep. Sopra. Ok, il paese dell'est. Glovo. 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 Non so come si dice. Non è neanche capito. Questo. Questo, questo, questo. Ma quella è l'estrana. Questa. Tiè. È questa l'estrana. Vediamo quanto costa la benzina. Cinque. Che cazzo è? Questo? Sì. No, 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 no. Ok. Allora, vediamo un po'. Come voglio vedere se c'è scritto qualcosa. Aspetta. C'è una C? Eh, non la vedo però perché c'è sto collo davanti. Croazia. Bielorussia. No. Allora, aspetta. C'è sta. C'è croazia. C'è zeta. O c'è. O c'è. No, è c'è. C'è repubblica. C'è zeta, questa. C'è zeta. C'è zeta. È la cecchia. E cosa dico la mezz'ora? Allora. Zuma. 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 Maria. Immaculata. Ok. Sud America. Allora. Perù. Però. Perù, però. Però, forse Dio. Perù. Specialità. Bogotà, Bogotà. Guarda dove è Bogotà. È una capitale. È tipo il Perù. Lima. Lima. No. Allora. Giù. Cile. Guarda il Cile. Cile e Bogotà. No. Chi è che è Bogotà? È al nord. È al nord. Perché per fortuna? È al nord e Bogotà. Fammi. Vai sulla mappa. Fammi. C'è l'Equador. Vai sulla mappa. No. Vai sulla mappa. Sì. Vai sulla mappa. Sì. Porco Dio. Vai sulla mappa. No. Vai sulla mappa. No. No. Mi sono fatto tre anni. Vai sulla mappa. No. Porco Dio. Vai sulla mappa. Io voglio vedere cosa c'è scritto. Allora dove andate? Andiamo. A nord. Nord. No. Lì. Ecuador. Dove è Bogotà? Bogotà. Colombia. Ah. Vai. Vai contro il camion. Che il camion è importante. Molto importante. Presidente. Raj. Raito. Vado a vedere quello là. Non è Russia. Non scrivono così in russo. Ah. LT. Lituania. Lituania. Questa. Chi è? Inghilterra. Ma che è Inghilterra? Vado a me. Hai chiesto di dire la prima cosa che ti viene in mente appena vedi una cosa? Guarda che dove sono che non riesco a uscire. Qua è Inghilterra e tipo Svezia con le partite. Ma non riesco ad uscire. Te lo giuro. Dove va? A questa O strana. La O così non è tedesca. No. Sarà un quel posto. È Nord Europa. Nord Europa. Danimarca. Norvegia, Svezia, Finlandia. No. Andiamo a cercare ancora. Volvo un'altra. È Svezia. Che rottura, eh? Allora, se non è Svezia, guarda. Guarda. Ti ho detto che è l'Islanda. Controlla l'Islanda. Tu però, per ultimo, hai detto Svezia. Ok. Facciamo l'Islanda. Facciamo l'Islanda. Che cazzo è? Guilano al contrario. Australia. Ste roba in Africa non esistono. Eh? Perché ti sembra Australia. In Africa ste cose non esistono. Mi sembra Australia. Guilano al contrario. Guarda se c'è una strada che passa vicino al lago. Eh, sì, Australia. Per me è Australia. Sud Africa. Porto Dio. Non girarti. Svizzera. Metti Svizzera. Dai, è la confine. Dio, cos'è? Oh, mio Dio. India. Pakistan. No, India o l'altro. O è India o l'altro. Thailandia. No, potrebbe essere... Perché anche se è scritta così. Tutte con le linee sopra. India e Bangladesh. India. Messico. Messico. Metlica. Est Europa. Però è messo molto, è messo molto, molto bene. Che luce. Sì, ma sta luce secondo me dà l'effetto di essere perfetto. Cioè, sta roba è messa molto bene. Ah, c'è l'accento sulla C. Slovenia. Sì, c'è. Posto. Eh. America, vai. Stati Uniti, buona. Singapore. Dai, ma porco Dio, è uguale. Olanda, così da è botto. Metti Olanda. Sì. Vado. Sì. A me siamo in Africa. Sì. Siamo in Africa. No, comunque si guida nel contrario, vedi. Ah, al contrario, è Sud Africa. Però non è Sud Africa, Sud Africa. È qualcos'altro, perché c'è deserto. È sta roba. Bozzuano. Bozzuano. Eh, Praga. Secondo me. Giuma Furgone. Furgone. Bello. Non posso andare in qua, quindi non posso avvicinarmi. LV. LV. La, Lazia. Sarà Grecia. Ankara. Eh, coso? Turchia. Eh, sì, infatti. No, Turchia. Posto. Eh, sud-est asiatico, eh, infatti. Kuala Lumpur. Thailandia. Vai, Thailandia. Sri Lanka. Sultan Abdul. Eh, coso? Malesia. Sì. No. Sì. No. Sì. No. Ero uguale. È solo che quella era schiacciata. Ero uguale. Inghilterra. Vai, fisso. Sardegna. Può essere. Kostafo. Sardegna. Sardegna. Ti è proprio azzeccato. Ma che cazzo ne sapevo? In prelinguino, al contrario, lì, la macchina sapeva che andava giusto. Allora. Svezia. Beh, sì. Aspetta, però. Vediamo bene. Perché qui si confondono sempre. Andiamo un po' a vedere le parole. Guarda ste cazzo di opor, con Dio. Sono sempre quelle che non prendono i coglioni. Vedi, quali sono i puntini? Eccoli, questi. Svezia. Oh, bello, la neve. Russia. Neva. Neva. Siamo in Europa. Russia o Ucraina? Siamo in Europa. E' Russia. Oh, e' I am. E' Ucraina. E' Ucraina. E' Ucraina. E' Ucraina o'Biello-Russia? Bulgaria. Bulgaria. Ok. Spero che questo video vi sia piaciuto. E per me ti è piaciuto. Spero che questo video vi sia piaciuto. se vi sia piaciuto. Asciuto like. Come sempre. Che sta facendo? Pazzo. Dai. Ricordatevi di seguirmi anche su Twitch, che prossimamente ovviamente ci saranno nuove live su GiocaEsser, su Minecraft, su tutti i giochi che volete. Poi potete consigliarmi anche altri giochi. però seguitemi sul canale Twitch e vi lascerò il link in descrizione. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto. E niente, ciao a tutti. E niente, ciao. Ciao a tutti. 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 Grazie a tutti